Complimenti ho detto in cronaca diretta perché malgrado il gol di svantaggio non avete perso il coraggio e soprattutto la lucidità nell'andare a seguire quello che è settimanalmente. Mister, provate e riprovate. Assolutamente, poteva essere un colpo del K.O. però questi ragazzi oggi avevano una risposta da darsi in primis a noi stessi e credo che abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dell'impegno, della concentrazione, dell'intensità. Abbiamo giocato alla pari di un grande L'Aquila e quindi siamo super contenti di questo punto che ci può permettere di lavorare in settimana sicuramente un po' più tranquilli e preparare la personale di Fossombrone nella maniera più serena possibile. Abbiamo analizzato i risultati mentre non eravamo in diretta, sotto è bagar clamorosa possiamo dire, però giocando così con questa intensità e con questa voglia c'è la speranza di superare un momento buio come quello che state vivendo? Sicuramente, abbiamo visto che il campionato è sì spaccato in due tronconi perché qui sotto si vive alla giornata, è grande bagara. Bisogna solo avere secondo me un pizzico di continuità perché la classifica è corta con dei risultati positivi. Ti puoi tirare fuori, questi ragazzi come ripeto lavorano bene, le partite ce le giochiamo con tutti, non demeritiamo con nessuno. Prima troviamo continuità e prima ci togliamo dalle sabbie immobili, sono sicuro al 100% che questa squadra si salverà. Come si va a letto la domenica sera pensando o ricordando che l'Aquila con Real Monte Rotondo ha perso 5 punti perché avete vinto all'andata e avete pareggiato oggi, voi ne avete guadagnati 4 ma loro ne hanno persi 5. Poi come si spiegano l'andamento del match col computo generale di una classifica che dice che bisogna fare di più? Come da statistica c'è sempre una squadra che dà fastidio sui testa-coda diciamo. Noi siamo un po' la bestia nera forse nei risultati dell'Aquila, però ci tengo a fare i complimenti perché secondo me l'Aquila è la squadra più forte, analizzando le partite è la squadra più forte del gruppamento. Secondo me, pensando a noi è chiaro che non ci aspettavamo di stare in questa posizione di classifica ma abbiamo avuto qualche problema, ci siamo rinforzati col mercato di gennaio comprando giocatori come Milani, come Cardillo che ci hanno dato sicuramente una grande mano dove sono andati a colmare quelle lagune che avevamo davanti.